A tutti voi una buona mattinata, nuovo appuntamento con le nostre ultime notizie e dunque da oggi la Toscana torna in zona arancione, fatta eccezione per Firenze e Prato. Questo significa dunque una nuova riapertura in presenza della scuola, tornano in classe anche gli alunni di seconda e terza media e al 50% quelli delle superiori, si apre quindi un altro capitolo della didattica in vista e in attesa degli esami di fine anno. Andiamo ora in Valdarno, una grande dimostrazione di affetto per le aziende incendiate nelle scorse settimane. Ieri i bambini di Levane hanno apposto striscioni e aquiloni davanti alla LEM e a Valentino Shoes. In particolare la LEM ripartirà oggi con la produzione, di fatto con un solo giorno di stop. Questo è stato possibile grazie a un grande lavoro di tutto il team, un lavoro di oltre tre giorni per far ripartire le linee produttive. Infine lo sport con l'Arezzo che ieri ha ritrovato la maglia a Maranto e ha travolto la Vispesaro per 4-2. Ha detta di molti la più bella partita dell'anno. Secondo il tecnico Roberto Stellone, finalmente una domenica di grande soddisfazione. Il trainer le ha indovinate tutte e la squadra ha risposto alle sue sollecitazioni. È tutto per questa edizione delle nostre breaking news, grazie per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.